Salve Youtube, benvenuti sulla nuova puntata di GTA 5, stiamo sempre nella missione della rapina di Trevor, oggi andiamo a rubare le metapetamine in una fattoria. Ciao, where you? Ah già, c'è anche Agos. E' un pezzo più importante, eh. Un pezzo, un pezzo che vuol dire. Sono un pezzo del gioco. Ah, ci andiamo un po', ma c'è ancora un posto, sto parlando di che ne andiamo. Ho visto una macchina buttarsi addosso di me. Non si. Un pezzo di che. Da? Svegli una macchina che sta se imporando di tutto il nostro amore. C'è un pezzo di mezzo? Se vuoi piatti, non c'è anche. C'è un pezzo di noi! E' un pezzo che sa. Ah no... che cosa stai facendo? No! Non lo so, non lo so! Non lo so! Non lo so! Oh! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! No, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Ah, non lo so! Io mi vencio in un c4 nel prossimo dato! Ah, no! E conoscendo una certa persona che se segue con me... Va! Sono innocente fino alla fine! Lavorando quindi anche con gli sbirri qui! Sei innocente come un... Come un gatto da tutto morto! Mmmh! Ehi, vive il GPRS! Mmmh! GPS! Non GPRS! Che è GPRS? Cosa roba! Oh, io uso la navigazione e la connessione inter! Chi è un GPRS? Che si? Sono vicino! Che? Sì! 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 O'Neili non prendo molto valore ai visitatori! Poiimare a comanda! Sì! Sì! Dove si muove, vai! E' baggato questo! Sii non è che fatto che si è baggato. Qui prendo uno alla testa. Facciamo capire un po' che comando. Potremmo andare in casa a fare pulizia? I' ammoliti! La voce che ci sono andati! E' incivilizzata! Gli scopriati qui rai! E' incivilizzata! E' incivilizzata! non ho messo mai aiaaa non è possibile dai adesso va bene, va bene tutto non è possibile che con un cavolo di colpo che puntano i giubbotti di proiettile cioè va bene tutto però va bene qui sopra? dove hai pensato? io sono entrato in un bar va bene è questa è la mia parola ci porta per quello per rubare autobotti che era il rimasto in un bar io ho bisogno di trovare ho bisogno di trovare oh se questo appena ho avuto il botte io ho bisogno di trovare ti ha tirato sotto? no mi ha ammazzato un tipo un bot mi sono trovato corpo a corpo mi sono trovato non ho bisogno di sparare ok dove cavolo sono le nostre sti è la mia per favore sono le nostre sono le nostre darci particolar sono le nostre le nostre l'accento Non so se non ci prendi tanto, ma è il tuo carcass, non mio! Hai capito? Tra la veloce o non prendi in tutto! Cosa è? Ti vieni in giro o non... ...e non vieni in giro? ...e non vieni in giro. Non vieni in giro, non vieni in giro. ...e non vieni in giro. ...e non vieni in giro. Cosa si diste? Credo che rispetto al zen Town공 ovviamente ha leggermente più potenza. ...Meh... ... knot... ...ma bene, sì sì zehn... ...e vieni io in giro qui! ...e bravo socio... Sì, spero che cazzo, mi stava metteria a questa granina. Se non mi rimane, mi rimane sempre a sentire la nota. Non mi rimane, non mi rimane. Non mi rimane, non mi rimane. ah aspetta aspetta però che se butto giù questo butto pure tu giù andiamo riesco a buttarlo giù? e vabbè che è successo? ah oh fallito no, dov'è andato o fallito? è andato dici? si 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 fallita sarebbe già uscito il eh, siete 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 bambini eh, però c'è dai va 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 ma sono tutti i fai dei fuori di testa e i dipendenti di tre vuol no, non lo so quello di ci oh ma che cosa, argenta mia sfiga ma ho dovuto cagare questa missione vabbè ma perchè mi hanno fregato imi mi hanno fregato, come che vuol dire ma buonga ragazzi la missione di oggi può finire qui il vostro video di agosto è tutto, bye bye ciao